E' difficile lasciare dopo 52 anni la parrocchia, anche se resto come viceparroco in essa, dove ho lavorato per 52 anni, tra tante cose belle e tante cose anche difficili da realizzarsi, però in tutto nella mia vita c'è stato sempre il desiderio di compiere la mia missione sacerdotale per cui il Signore mi aveva chiamato ad annunziare il Vangelo e chi annuncia il Vangelo dovrebbe anche cercare di realizzarlo nella propria vita. Certamente tutto quello che ho fatto è anche un dono di Dio il quale mi ha chiamato ad essere sacerdote e nel lontano 1952 l'Arcivesco Monsignor Demetrio Moscato mi mandò in questa parrocchia ad essere il nuovo parroco. Da allora sono passate tante cose belle, anche cose difficili di vita, ma abbiamo sempre avuto l'aiuto del Signore il quale ci ha aiutato a cercare di realizzare nel modo migliore possibile la nostra vita sacerdotale. Certamente non abbiamo fatto dei miracoli, il miracolo gli fa Gesù, ma abbiamo tentato di portare il Vangelo a tutte le categorie, tenendo conto anche specialmente dei giovani, in quanto io mi interessavo dell'ASPI, l'Associazione Nazionale San Paolo Italiana, che si interessa proprio degli oratori e dei circoli giovanili e quindi anche con i ragazzi di allora e con i giovani e le persone maturi di oggi abbiamo fatto anche tanti viaggi particolari per realizzare anche il messaggio dell'ASPI. Certamente il Signore mi ha dato la forza di poter continuare in un certo modo la mia missione sacerdotale che dopo 52 anni è giunta, non dico alla fine perché resto in parrocchia come sacerdote per anche per aiutare il parroco a cercare di realizzare e continuare questo messaggio nuovo per cui il Signore mi aveva chiamato ad essere sacerdote. Ringrazio il Signore, ringrazio la Madonna, ringrazio i Santi Protettori di Gaiano che mi hanno aiutato a poter compiere in un certo modo cercando di realizzare veramente il messaggio del Vangelo di amare e di portare la voce del Signore, la verità al popolo. Questo è stato il mio messaggio sacerdotale.